Dovresti avere come regola di vita, ed è difficilissimo per le persone creare delle regole di vita, delle routine alle quali aderire fortemente, però dovresti impegnarti tanto in questo, per cui ogni giorno, prima di andare a letto, devi buttare fuori un pezzo di marketing per te. Un video, un post, una testimonianza, un qualcosa che è successo in riunione con un cliente, un KPI che sei riuscito a migliorare, qualsiasi cosa. Non stai facendo niente, sei all'inizio, qualcosa che hai studiato. Oggi ho imparato questa cosa figa di marketing e quindi sono più bravo di come ero ieri. Anche se tu non hai clienti, ma te fai mesi di condivisione del tuo percorso di apprendimento, è marketing. E la gente che vede, ah cazzo questo ti sta veramente formando, ah guarda che cose interessanti, dice. Inizi comunque a posizionarti come colui che sta diventando un esperto e va bene, è meglio quello che stare zitti perché pensi di non avere clienti o cose di cui parlare.